Una particolare sottolineatura merita la presenza della signora Ferrera che proprio questa sera avrebbe dovuto esibirsi su un palconscenico ben più importante del nostro, peraltro a lei è abituale quello della scala, ma che ha voluto mantenere fede la parola data ed eccola qui per noi. Grazie a Padre Aristide, al nostro Vescovo, ci consente eminenza di chiamarla, di continuare a chiamarla così, Padre Aristide, abbiamo voluto dedicare anche il concerto con questo titolo a Padre Aristide perché per noi erbesi sarà sempre Padre Aristide qualunque sia poi vero l'onore al quale sarà chiamato. La sua presenza ci fa onore? Venga, venga. Querida Brasileira, venga para cá. Venga, signora Donessa. Querida soprano, per me è stata una baffina imensa encontrare la signora qui. non pensavo di trovare il mio querido Brasile rappresentato dalla signora con una voce tan meravigliosa quindi oggi noi uniamo uniamo Italia e Brasile un riozinho qui chiamato Lambro un riozinho, un piccolo torrente con il rio Mar il rio Amazonas una patria sola, Brasile e Italia una patria sola, Brasile e Italia i corazioni dei erbensi e dei baltelliniani e di tutti questi paesi qui, uniti nella arte per aiutare i nostri i nostri rio io voglio dare una florzina florzina che viene da sua terra e è grazie è meraviglioso meraviglioso sempre molto meraviglioso no, 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 no non si può dire è un segreto l'età insomma va in su come la mia però la voce è ancora giovane e spillava che quasi rompeva le teglie accidente bravo grazie a tutti 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 grazie a tutti